La mia candidatura nasce da un profondo interesse per l'attuale realtà sociale, che è il riflesso di una gestione politica inadeguata. Mi approccio con umiltà a questa esperienza, con la ferma convinzione di poter dare il mio contributo semplicemente dal punto di vista di una cittadina. Sono una docente, mi candido per aiutare Favara a crescere e la Sicilia a migliorare. Lo so, siamo stanchi, siamo delusi, non c'è lavoro, i giovani sono costretti ad emigrare, il livello di vita in Sicilia è sempre più basso. Ho tanta buona volontà, aiutatemi ad aiutarvi, sono una di voi, credo ancora nel nostro futuro, miglioriamola insieme. Grazie.